A giugno del 1984 nasce ad Argenta il gruppo comunale Aido, del quale io sono presidente a decorrere dal 2004. Oggi iscritti presso il nostro gruppo sono 1217. La mia storia comincia praticamente sei anni fa con le prime analisi dove vennero riscontrati dei gravi problemi ai reni che infatti nel giro di sei anni mi hanno portato a subire un intervento di trapianto. Io sul momento quando mi è stato detto che il rene me l'avrebbe donato a mia sorella io ci ho pensato bene perché mi sembrava chiedere troppo, chiedere a mia sorella di mettere a rischio la sua di salute. Grazie a tutto il lavoro psicologico fatto da mia madre, fatto da tutti i miei familiari, addirittura da mia sorella stessa che lei era una volontaria dell'Aido, era già iscritta all'Aido da diverso tempo, mi hanno convinto. Per mia fortuna l'intervento è andato bene, io sto bene. Mia sorella che era quello che mi preoccupava di più, vedo che sta bene anche lei. Sono una volontaria, sono iscritta all'Aido dal 1985 da quando si è formato il piccolo gruppo di Argenta. Da quel momento mi sono impegnata moltissimo perché ho capito la necessità di fare qualche cosa per chi ha bisogno di organi per poter vivere. Ho lavorato molto per informare i miei concittadini, i miei amici, i miei parenti e tutti quelli che conosco su questi problemi. Io sono qui anche per poter, cioè in un qualche modo, per sensibilizzare la gente al discorso della donazione di organi, perché io parlo egoisticamente perché ho ricevuto io un organo, però io ho visto anche nelle strutture dove ero molta gente, tanta gente che aveva bisogno di organi e purtroppo questi organi non erano disponibili. C'è bisogno di continuare questo lavoro di informazioni, di raccogliere molte decisioni perché c'è tanto bisogno di organi, tante persone sono in lista d'attesa, adulti, bambini, anziani e ripeto, tanti, tanti, tanti bambini. Per diventare donatori basta compilare una domanda di iscrizione presso il nostro gruppo comunale di Argenta e automaticamente il nostro nome sarà immesso in una banca dati presso il Ministero della Sanità di Roma. Grazie a tutti.